S.M.S. Nido è ormai una realtà in Casentino. Dopo il caso della piccola Tamara, morta perché dimenticata in auto dalla madre, la vallata casentinese ha avvarato un nuovo servizio. Una telefonata prima ed un S.M.S. poi da inviare ai genitori dei bimbi assenti al nido, senza che ci sia stata però una comunicazione preventiva. Al mattino nel momento in cui i bambini entrano al nido, se ci sono bambini che non vengono accompagnati e le insegnanti, la struttura non è stata preavvisata perché spesso accade che per malattie quant'altro vengano preavvisate le maestre, le educatrici dei nidi, nel momento in cui non ci sia stato preavviso da parte della famiglia partirà un S.M.S. ai genitori, al babbo e alla mamma che dirà che il bambino quella mattina non è presente in struttura. Noi crediamo che questo sforzo, nonostante potrebbe anche risultare ridondante per qualche genitore che magari si sente arrivare il messaggino anche quando tranquillamente il bambino è stato tenuto a casa per motivi familiari o di salute, però insomma noi crediamo che questo sforzo collettivo valga la pena anche solo per salvare anche una sola vita. Ha aderito tutte le strutture del territorio? Sì, tutte le nostre strutture. Noi abbiamo un coordinamento pedagogico zonale che fa capo alla conferenza dell'istruzione al quale afferiscono tutti i comuni, tutti i nidi del territorio, sia quelli gestiti direttamente dai comuni che quelli privati convenzionati. Siamo già partiti il 3 di luglio e arriveremo fino alla fine dell'anno, fino alla fine del corrente anno scolastico e ricominceremo a settembre.